Oggi ci distacchiamo dal programma consueto che vede percorsi d'arte legato alle grandi mostre in corso a Milano. Oggi proponiamo con la Mediateca di Santa Teresa un incontro di passione, dedicato a un momento della cultura del Novecento tra i più intensi che si possano registrare. La rivoluzione russa, se ne celebra quest'anno il centenario, non è stata solo un fenomeno politico, economico, è stata soprattutto un incredibile momento per le arti, un momento di utopia vissuta fino alla fine, drammaticamente fino alla tragedia, le arti che non sono solo accessorie, che non sono solo un divertimento per pochi, ma che diventano vitali. Si ha bisogno dell'arte come di nutrimento. E le arti, agli inizi del Novecento in Russia, vivono insieme la musica, la pittura, l'architettura, il teatro, una galleria di volti, una sequenza di sguardi indimenticabili, pagine di poesia, spartiti musicali. Hanno inventato praticamente tutto, tutte le avanguardie successive, in qualche modo devono confrontarsi con loro. Parlare di Russia è difficile, Le associazioni culturali russe sono tenute a freno per questa doppia anima che si portano dentro, quindi i vecchi che hanno vissuto la Russia come Unione Sovietica, i giovani dell'Unione Sovietica non hanno mai sentito parlare e soprattutto direi non hanno interesse a risentirne parlare. Questo fa sì che questo argomento sia curiosamente demonizzato. Quest'anno, anno della rivoluzione, ci sono state grandi mostre e qualcosa di importante ci sarà anche in Italia. C'è stata una grande mostra a Londra, intitolata Revolution. Ci sarà in Italia una mostra a Bologna, sulle avanguardie russe, con rapporti ufficiali, quindi la direttrice della Tretiakov porterà a Bologna opere delle avanguardie. La mostra credo si aprirà a metà dicembre e sarà interessante anche capire che taglio verrà dato, perché pensate che la mostra di Londra ha avuto un certo strascico sulla stampa inglese che ha accusato gli organizzatori di aver esaltato un periodo sanguinoso e violento. Il rischio naturalmente c'è. Non ho certo voluto esaltare un periodo sicuramente di grandissima sofferenza e di grandissimo dolore. Quello che mi ha coinvolto nella scelta dell'argomento e nel trattare l'argomento è l'incredibile densità di artisti di tutte le diverse arti che si sono mossi in questo paese straordinario tra la fine dell'Ottocento e gli anni trenta del Novecento. È un momento per me, ma credo che sia un momento così per tanti, di tutte le età, non credo sia solo effetto della maturità, è un momento in cui mi domando se al di là dell'informazione non sia importante ridare un senso allo studio, alle esposizioni, alla cultura. E proprio in quest'ottica ho pensato alla Russia, perché la Russia è stato un vero punto di rottura. Nella Russia degli inizi del Novecento ci si è domandati in maniera qualche volta tumultuosa, adolescenziale, qualche volta più matura ma perché deve esistere l'arte? Chi può fare arte? E chi può fruire dell'arte? Ci sono stati periodi in cui si è detto l'arte è a sé. È un'esperienza che ti libera dalla vita. ti elimina tutte le preoccupazioni che hai intorno perché l'arte sta per conto suo in una specie di iperuraneo. E ci sono momenti come quelli invece di cui ci occuperemo oggi in cui si è detto l'arte non esiste senza la vita. e tutta la vita quindi anche la parte sporca della vita la parte meno accettabile anche questo genera arte. Per questo appunto sono affascinata da questo universo ho diviso gli incontri in due parti una parte quella di oggi dedicata a Mosca e un'altra parte dedicata a San Pietroburgo Pietroburgo, Leningrado, Pietrogrado la capitale del nord. Altra cosa parliamo di Mosca e anziché fare la consueta la sequenza cronologica quindi dalla fine dell'Ottocento agli anni venti del Novecento quindi quindi dal simbolismo del periodo di Alessandro II alle ultime avanguardie ho pensato di mettere la marcia indietro. La marcia indietro direi quasi per raccontare una delle grandi sfide di questo periodo cambiare il tempo fermare il tempo agli inizi del Novecento si sognava la fine del tutto per poter ricominciare il tema dell'Apocalisse che è un tema ben presente nella letteratura simbolista e dei visionari della fine dell'Ottocento. L'utopia spezza la storia se c'è un modo per fermare la prosecuzione inarrestabile del tempo quello pensano alcuni degli artisti che vedremo e soprattutto i filosofi che stanno dietro gli artisti quel modo è l'utopia utopia che dice basta così non va si ricomincia da capo a proposito di utopia cominciamo con l'immagine forse più celebre della utopia sovietica e ripeto andremo indietro nel tempo quindi parliamo delle arti subito dopo la rivoluzione d'ottobre qui siamo nel 1919 un artista ma anche architetto oggi diremmo designer deve esporre in occasione della terza internazionale comunista un modello di architettura nuova e crea con materiali diversi questa famosissima struttura l'autore si chiama Vladimir Tatlin naturalmente questa struttura non verrà mai realizzata e vi dico perché naturalmente perché doveva essere alta 400 metri la parte inferiore doveva essere un cubo al cui interno dovevano essere uffici amministrativi nella parte superiore doveva esserci un cono in cui dovevano esserci uffici di propaganda e nella parte superiore ancora infine un cilindro un cilindro che doveva essere usato come antenna che doveva essere la voce della comunicazione di questa incredibile architettura è diventata famosa famosa naturalmente per la sua iperbole ma di architetture iperboliche nella storia ce ne sono tantissime pensate ai colossi dell'antichità pensate alle cattedrali stesse qui direi che la cosa straordinaria è innanzitutto l'uso di una geometria non euclidea vedete che si usa un sistema di iperboli per cui non è un'architettura con due parti rispondenti come vuole la tradizione rinascimentale ma vedete che quasi come una torre di babele ed evidentemente era nella mente di Tatlin questa metafora la torre di babele che voleva arrivare fino al cielo come nella torre di babele la parte terminale la parte più alta non è collocata sullo stesso asse centrale della base badate che anche se non è mai stata realizzata anche se è una è stata appunto questo incredibile sogno di un di un sognatore sopportato anche in età stalinista e poi cercherò di spiegarmi meglio ha influenzato in maniera più o meno criptica molta architettura successiva perché la cosa che vorrei che tutti ricordaste al di là dei nomi delle informazioni è che se i nostri ragazzi lavorano a computer e fanno manifesti e progettano architetture molto molto del linguaggio che usano viene da questo periodo delle arti e io pensavo alla torre Unicredit qui vicino a noi in piazza Gaia Olenti di Cesar Pelli la parte superiore la guglia che vuole ancora una volta arrivare fino al cielo richiama evidentemente Tatlin siamo in anni in cui si ha una grande fiducia nelle macchine è un argomento interessante e complesso noi oggi siamo un po' stufi di macchine lo si vede dappertutto grande passione per le biciclette grande voglia di campagna basta non ne possiamo più di robot di droni ma c'è stato un momento questo momento in cui la macchina aveva una dimensione salvifica angelica e sulla torre di Tatlin dovevano andare su e giù questi meravigliosi ascensori che portavano verso l'alto fatta per il partito certo dovremo parlare naturalmente dell'idea dell'arte come espressione politica all'epoca evidentemente siamo in pieno leninismo il ministro della cultura si chiama Luna Ciaschi si è formato a Parigi ha conosciuto Apollinaire ha conosciuto Picasso quindi procedendo per grossi blocchi e la mia vera ansia parlandovi di loro è che non avrò mai nomi a sufficienza per tutti perché gli artisti di questi anni sono tanti tantissimi donne ragazzi che arrivano dall'Oriente vite vagabonde avventurose tormentate ma tutte con un grande faro davanti allo sguardo la voglia di fare insieme qualcosa che sia bello e utile mentre la storia precedente e noi lo vedremo scorrendo indietro nel tempo aveva in qualche modo separato le due cose la bellezza e l'utilità c'è un argomento che vi invito a studiare ad approfondire ripeto tutti questi incontri sono in realtà delle delle occasioni di riflessione collettiva e io non riesco mai a uscire da questo ruolo io parlo gli altri ascoltano mi piacerebbe tanto proprio come volevano fare loro che il sistema pedagogico o didattico consentisse una maggiore interazione tra pubblico e diciamo oratore vorrei che voi leggeste per esempio e andaste a vedere ormai ce n'è la possibilità perché queste macchine amate e odiate ci danno questa possibilità su youtube frammenti del teatro del tempo allora l'arte nella visione del periodo leninista è un linguaggio collettivo linguaggio collettivo vuol dire che l'artista non è nella sua torre d'avorio isolato ed eletto benedetto e maledetto come vuole la tradizione romantica l'idea romantica dell'artista dice l'artista è geniale ma non ha contatto con tutti gli altri è l'ispirato questo momento dice invece l'arte è prima di tutto comunicazione e coinvolgimento e si comincia con il teatro il teatro di questi anni è straordinario con una prima grande esperienza immagino che tutti voi l'abbiate l'abbiate visto sulle scene o in trascrizioni cinematografiche che è l'enorme ceco e la riflessione appunto sul teatro nel teatro che è il gabbiano tre sono i grandi maestri del teatro del periodo rivoluzionario e tre modi diversi di concepire il teatro uno si chiama Tyroff e valorizza l'interpretazione dell'attore lasciandolo completamente libero l'altro Stanislavski chiede all'attore di assumere il più possibile le caratteristiche richieste dal personaggio che rappresenta e l'altro ancora Meierkold di cui parleremo più a lungo avanza una teoria modernissima che a tutt'oggi è importante per chi affronta l'esperienza teatrale la biodinamica cioè un particolare collegamento tra la dimensione spirituale e la dimensione fisica il teatro ovunque pensate dopo la rivoluzione teatro nelle officine nelle fabbriche nelle scuole e intanto immaginatevi Mosca Mosca che cresce di popolazione perché da una città di 300.000 abitanti negli anni 20 diventa una città di quasi 3 milioni la gente arriva da tutte le campagne che intanto sono disperate perché c'è stata la guerra civile perché i campi sono abbandonati la città si trova a gonfiarsi in maniera abnorme e il teatro diventa il mezzo più immediato per parlare per parlare a tutta questa gente voi immaginatevela tutta diversa da come siamo noi noi bene o male parliamo la stessa lingua abbiamo una storia scolastica abbastanza comune loro tutti diversi analfabeti tanti gente piccolo borghese figlio di maestri gente che arriva dall'estremo caucaso gente che arriva dall'estremo nord come metterli insieme allora vi ho parlato delle tre linee teatrali che poi arriveranno ad influenzare evidentemente il cinema cosa mettere sulla scena ecco questo che vedete qui è un bozzetto un modellino per una scena teatrale di Tyroff per la messa in scena dell'uomo che fu giovedì di Chesterton va fatta una premessa io vi ho detto che per fare questa cosa ho cercato di conoscere tante persone gli slavisti di cui sentivo i nomi dalla mia prima giovinezza e poi qualche volta ho dovuto rinunciare ho una grande passione per Serena Vitale per esempio che adesso però si è un po' scostata dalla scena ho incontrato slavisti che leggono in chiave soltanto cristiana il cambiamento della Russia e naturalmente ho incontrato slavisti che la leggono in chiave esclusivamente marxista quando si pensa a una macchina come questa sul teatro pensate siamo ripeto 1919-20 siamo subito dopo i drammi simbolisti di Metterlenk pensate ai teatri con le ricostruzioni borghesi tavolino la caraffa sul tavolo la filosofia un po' alla Lucchino Visconti per intenderci di un teatro che deve essere un frammento di realtà portato sulla scena e guardate invece queste macchine queste macchine in cui gli attori dovevano passare da un palcoscenico all'altro sottolineando il senso di estraneamento del pubblico e adesso ci arrivo prima di tutto volevo ricordarvi vi parlavo di tutti questi slavisti e vi parlavo di un professore della cattolica a cui ho chiesto qualche delucidazione su come interpretasse lui la rivoluzione e tra le cose che lui mi ha detto una che mi ha molto colpito è che l'editoria russa degli inizi del novecento era di gran lunga più avanzata dell'editoria italiana per esempio mi diceva ma lo sa che Husserl è stato pubblicato in Russia tradotto in russa in lingua russa molto prima di quanto sia avvenuto in Italia decenni e decenni prima quindi una cultura che aveva delle punte di grandissimo aggiornamento su tutto quanto veniva fatto in Europa e poi una grande quantità di popolo analfabeta evidentemente e quindi pensate mettere in scena Chesterton chi l'avrebbe fatto in Italia agli inizi del novecento poi vi dicevo la teoria dell'estraneamento è una teoria importante che in qualche modo rovescia la teoria tradizionale della empatia tra il pubblico e chi si trova sul palcoscenico tradizionalmente si dice mi immedesimo nella azione che vedo rappresentata la presenza delle avanguardie russe in questi anni cercando qualcosa che dovesse essere per tutti attenzione perché il salotto borghese delle tre sorelle non era comprensibile per chi veniva dalla campagna e allora e allora queste queste nuove forme forme che alludono alla città che sta cambiando e che richiedono agli artisti e lo vedremo in più occasioni agli attori delle autentiche prove fisiche credo che molti di voi riconoscano alcune delle strutture scenografiche che ancora oggi usano i nostri registi d'avanguardia piattaforme mobili scale che appaiono e scompaiono una visione dello spettacolo come meraviglioso non come realistico ma come qualcosa di straordinario fuori dalle fuori dalle righe c'è una parte dell'architettura russa moscovita degli anni venti che vede quel conflitto più o meno nascosto tra il mondo odierno la Russia odierna e la Russia della rivoluzione e questa parte è la conservazione di edifici come questo che vedete questa torre radio che si chiama torre sciabolosca che si trova a Mosca e che era una di nuovo delle costruzioni di punta dei nostri architetti che progettano una nuova Mosca che sia in grado di ospitare migliaia di persone in più di parlare a tutti attraverso questi nuovi strumenti come appunto la radio l'architetto Shukov che fa parte di questo piano di costruzione della città crea questa torre che si chiama appunto torre sciabolosca e che è stata in pericolo di distruzione nella Mosca che sta prendendo un ritmo un modo di espansione completamente diversa ai nostri giorni ma vedete com'è prossima a certi ideali costruttivisti e suprematisti di un Malievic che tra breve vi mostrerò gli architetti come Tatlin come Shukov come Melnikov che tra breve vi mostrerò e che negli anni dicevo di Lunacharsky devono progettare una città nuova vengono grossomodo messi sotto un'etichetta che è quella di costruttivismo vedremo risalendo il corso del tempo che la grande obiezione che queste avanguardie facevano ai loro predecessori era appunto quella separazione tra arte e funzione e tecnica che caratterizzava le arti ottocentesche il ministro della cultura dice chiaramente agli artisti negli anni venti guardate l'arte come passatempo per signori ricchi non ci interessa in questo momento non ne abbiamo bisogno dobbiamo costruire un'identità nazionale abbiamo bisogno di un'arte che aiuti a costruire non a decorare ed ecco allora questa linea che ha prodotto delle forme estremamente interessanti che sono secondo me all'origine di tanto design contemporaneo e io vi parlo della Russia ma tra poco vedremo che in realtà la barriera che la nostra giovinezza ci ha insegnato a vedere tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale non c'era in quel periodo la Germania parlo del 1919 1920 era nel periodo della Repubblica di Weimar e quindi questi artisti a differenza degli artisti che verranno dopo in Russia potevano ancora viaggiare e la Germania era una Germania rossa Berlino era rossa in quel periodo e vedremo che c'è un legame tra il costruttivismo russo e Bauhaus che fiorisce negli stessi anni in quella Germania che poi con le spartizioni del dopoguerra diventerà la Germania di area comunista la cosiddetta Dedea naturalmente immagino che molti di voi si pongano un problema fondamentale ma la gente che arrivava dalle campagne cosa capiva di queste forme? Gli artisti gli architetti prima di tutto ma anche gli artisti con un grande volo utopico e platonico diranno dopo la rivoluzione è arrivato l'uomo nuovo e l'uomo nuovo non ha più bisogno di vedere rappresentata la realtà l'uomo nuovo crea la realtà e avrà un linguaggio comune comune a tutti e il cerchio e le forme a spirale che salgono verso l'alto sono comune a tutte le generazioni a tutti i popoli a tutte le lingue io non so se sia vero oggi siamo molto più complicati oggi sappiamo per esempio che la simbologia dei colori non è universale ma loro credevano in un uomo universale non in un uomo globalizzato in un uomo universale e quindi il potere lo vedremo del quadrato del cerchio di forme pure non mimetiche che non rappresentano la realtà ma che ne inventano una dovevano essere comuni appunto a tutti adesso per alleggerire un po' il tono vi racconto che gli anni che man mano si fanno più duri perché pensate che qui siamo negli anni venti ma di lì a breve appunto con la metà degli anni venti il passaggio di consegne da Lunacharsky a Zdanov porterà a una a silenziare le avanguardie che verranno considerate comunque solipsistiche cioè di un'inventività non adatta a tutti ma a pochi si aprirà un dibattito nella scuola di Vitebsk il contadino capisce un quadrato bianco per vi dicevo alleggerire un po' questo argomento cruciale vi devo dire che benché questi anni andassero verso il periodo più duro quello appunto delle purghe quello della caccia alle streghe intellettuali quello dei gulag la mosca degli anni trenta scrive dei romanzi di fantascienza straordinari e io ho conosciuto un giovane studioso di cultura russa che viene in Braidense nella biblioteca di Brera e chiede in prestito questi spettacolari romanzi fantascientifici che ancora una volta la cortina tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale ha allontanato per molto tempo dal nostro mercato editoriale chi sono i costruttivisti vi ho detto Tatlin vedremo Melnikov questo è un bozzetto di Vesnin erano due fratelli che hanno lavorato anche qui a queste idee quasi tutti evidentemente idee grafiche difficilissime alla realizzazione di architetture che noi oggi con termine occidentale definiremmo surreali vedremo le problematiche abitative di Mosca che sono evidentemente immense le problematiche io vi devo proporre l'altro argomento quindi da una parte la possibilità di questi sogni architettonici Tatlin continuerà per tutta la vita a sognare a progettare pensate che una leggenda forse metropolitana sostiene che a Tatlin venne affidato il compito di celare Mosca al momento dell'avanzata delle truppe naziste cioè di trovare un modo per farla scomparire affinché i nemici non la trovassero in realtà Tatlin come molti della sua generazione con l'arrivo di Stalin non potrà più sognare alcuni finiranno male lo sappiamo di questa generazione altri come Tatlin semplicemente resteranno da parte ma l'architettura non può essere solo sogno l'architettura deve essere anche realizzazione e si pone nella Mosca degli anni venti un problema che credo sia ancora oggi irrisolto come si fa a vivere insieme è argomento difficilissimo quindi io non ho certo idee originali e quello che posso permettermi di fare è di raccontarvi come questo incredibile debordare della città abbia reso necessario costruire migliaia e migliaia di nuove abitazioni in fretta per di più e in una mosca mangiata dal gelo e dalla fame Majakoski scrive proprio in quegli anni persino i corvi a Mosca hanno fame e la gente continua ad arrivare dalle campagne e vuole lavorare nelle fabbriche fabbriche che negli anni venti vanno avanti grazie a questo progetto che si chiama NIEP e che vede il primo compromesso tra la politica economica leninista quindi di totale statalizzazione dell'industria e la necessità di mantenere qualche capitale privato quindi gli anni venti sono per Mosca gli anni della NIEP che vede da una parte l'estendersi di queste immense folle che vivono in baracche o che vengono situati in palazzi patrizi palazzi aristocratici espropriati e che vengono suddivisi in tanti piccoli spazi e e questa quindi è la grande problematica che si pone dove mettere le persone come farle vivere insieme io mi permetto di dire che l'architettura odierna risolve molto spesso problemi elegantissimi come quelli del museo il museo Guggenheim la fondazione Vuitton sono meravigliosi oggetti architettonici ma dove fare abitare le persone e a quanto spazio abbiamo diritto quanti metri quadrati occorrono per essere felici pare che questa problematica che è stata così viva nell'unione sovietica di cui ci occupiamo ma anche nella Milano degli anni del secondo dopoguerra oggi non ci tocchi più corriamo a vedere le archi star quindi i grandi palazzi di banche i nuovi uffici ma una progettazione urbanistica mi sembra oggi molto più difficile sicuramente ci sarà in qualche luogo in qualche posto al mondo ma mi pare che oggi nella cultura italiana se ne parli molto meno il problema della condivisione di spazi fa sì che molti architetti che orbitano intorno a uno di queste associazioni di artisti perché la grande paura del nuovo stato è che l'artista lavori da solo lo abbiamo detto l'artista della tradizione romantica è l'ispirato e non ha intorno nessuno il nuovo artista sovietico deve lavorare in gruppo deve conoscere l'arte e farla conoscere lavorando insieme e quindi nascono decine di associazioni dai nomi impronunciabili quella degli architetti si chiama Temas ma ce ne sono che nascono muoiono si rifondano con una litigiosità che già negli anni venti la dice lunga su come sarebbe andata a finire tutta la storia evidentemente ci sono architetti che pensano a salvare la dignità di una casa monofamiliare altri più radicali che pensano ad una condivisione di tutti i servizi lo so è una cosa complicata difficile ma qui vi faccio vedere un esempio di un'architettura degli anni venti in cui compare già la parte inferiore con i famosi piloni che poi riutilizzerà le corbusier non solo finestre a nastro luce pensate che molti di questi degli abitanti che dovevano entrare in questi edifici venivano da esperienze abitative rurali quindi esperienze vitali completamente nuove ma ci sono anche padiglioni garage e qui uno dei più importanti architetti degli anni venti a Mosca si chiama Costantin Melnikov oggi è venerato dagli studiosi di storia dell'architettura per molto tempo è stato trascurato e con gran pena adesso a Mosca io l'ho vista qualche mese fa si è riusciti a creare un Melnikov museum in quella famosa casa che Melnikov costruisce per sé che tra poco vi farò vedere Melnikov un po' come Tatlin è un visionario ma è un visionario capace di realizzare e vuole delle forme pure attenzione usando sempre del materiale poverissimo come il cemento per nuove funzioni i garage per esempio ora io me lo vedo con gli occhi della mente forse a voi non capita lo stesso perché non siete immersi come me in questo momento in questo tipo di ricerche ma Mosca ha continuato ad andare in carrozza proprio come in guerra e pace per per oltre vent'anni dopo il 1900 perché i i vetturini erano una potenza a Mosca avevano locali propri avevano un proprio dialetto avevano un proprio modo di vivere l'arrivo del garage segna una novità assoluta e quindi per una nuova funzione una nuova architettura e io sono andata a vedere questa casa qui che è oggetto pensate di una storia abbastanza controversa perché questa è la casa atelier che Konstantin Melnikov architetto costruttivista ha disegnato per sé in una zona piuttosto centrale di Mosca e ha fatto questa torre cilindrica con tante finestre esagonali senza tetto oggi oggi noi siamo abituati a case senza tetto ma nell'ottocento le case avevano tutto il loro tetto e così tutte le case tradizionali fino a non molto tempo fa era uno dei pochi edifici di Mosca non statalizzato quindi apparteneva all'erede dell'architetto che l'ha costruita disegnata e costruita per ironia della sorte ma la sorte ha di queste ironie la casa di Melnikov è stata espropriata alla proprietaria non dal regime comunista ma dall'attuale governo russo che ne ha fatto il museo Melnikov evidentemente è ancora in restauro perché dovete pensare credo che molti di voi la conoscano che Mosca è una città immensa meravigliosa difficilissima alla manutenzione anche perché ancora oggi da tutte le parti dell'ex impero sovietico arrivano a Mosca migliaia e migliaia di persone guardate mentre veniva costruita e pensate anche qui che grande libertà ecco Melnikov si dedicò anche ai famosi club operai e qui ripeto oltre all'architettura che è estremamente interessante è affascinante pensare alla filosofia della costruzione che ci sta dietro allora statalizzate le proprietà private e utilizzate come case di abitazione per questa massa che affluiva nella città lo Stato si doveva occupare di luoghi comuni perché l'elemento fondamentale è sempre la vita collettiva che nel nostro quotidiano ha una parte così tutto sommato minima allora gli operai dovevano vivere insieme leggere insieme molte ore del giorno quindi al di là della vita della fabbrica dovevano avere un luogo dove ritrovarsi dove leggere libri dove discutere sentire musica eccetera Melnikov disegna alcune di queste case per operai di questi club operai come queste che vedete con delle architetture di nuovo vagamente teoniriche perché questi grandi spazi aggettanti sembrano sfidare le leggi della statica e pensate agli anni perché sono gli anni del nostro palazzo di giustizia per intenderci quindi prima di dare dei giudizi eccessivamente eccessivamente rigidi pensate che le case nostre contemporanee sono più tributarie di questo tipo di architettura che non dell'architettura alto-borghese del periodo fascista e poi ci fu naturalmente come spesso succede non solo in Russia ci furono tentativi più o meno falliti di piani regolatori in una situazione di emergenza spaventosa lo ripeto emergenza che nei quadri si vede ma quando io vedo un Kandinsky ne vedo i colori sento la musica come faccio a pensare alla gente che non sa dove andarsi a lavare che non ha di che mangiare l'architettura invece questo lo racconta lo racconta in maniera più solida più evidente ebbene nonostante si pensi a Mosca solo come alla città di Bulgakov e quindi agli orrori della condivisione della vita in comune in realtà negli anni 20 ci fu un progetto di espansione della città in vari quartieri giardino un famoso libro inglese di Ebenezer Howard che si intitola proprio la città giardino era stato tradotto a Mosca subito dopo la rivoluzione e pubblicato e questo piano regolatore prevedeva oltre 20 metri quadrati di verde per ogni abitante e strutture satellite intorno alla città dove comunque bisognava che le persone stessero in condomini persone che venivano come vi dicevo da una situazione molto spesso di abitazione rurale appunto questo che vedete è un progetto con la piazza centrale la famosa Agora e appunto architetture stellari visto che parliamo tanto di anniversari l'anno prossimo nel 2018 ci toccherà un altro anniversario e se Dio vuole non è così distante dall'argomento di cui parliamo oggi perché Bauhaus che è stata fondata nel 1918 e di cui quindi celebreremo l'anniversario è stata legata da un filo diretto al mondo degli architetti e degli artisti russi questo che vedete è l'edificio di Bauhaus a Dessau riprendo rapidamente il contesto 1918 Germania anche qui a terra niente niente da mangiare e una guerra civile imminente Walter Gropius che arriva da Vienna apre a Weimar una scuola di architettura in cui in maniera non dichiaratamente politica ma certo evidentemente ideologica si condividono le idee della Russia sovietica di cui vi ho parlato poco fa Gropius dice l'architettura è la regina di tutte le arti perché consente all'uomo di stare bene e l'arte non deve essere un vagheggiamento che fugge dalla realtà ma deve essere realtà e l'architettura è l'insieme di tutte le arti perché consente all'uomo di vivere all'interno delle arti così come sappiamo Gropius crea questa scuola la casa della costruzione dell'architettura Bauhaus in cui si disegna tutto dal giocattolo alla casa alla fabbrica alla teiera anche qui al palcoscenico teatrale ai costumi per il teatro questo filo che unisce Bauhaus in Germania e la Russia si farà con gli anni venti sempre più stretto tanto che alcuni costruttivisti come Persner come Gabo andranno ad insegnare a Bauhaus quando il terzo Reich salirà al potere vedrà Bauhaus come una cellula di diffusione comunista e tra i primi atti del Reich sarà proprio la chiusura di Bauhaus poi cos'è successo è successo che la seconda guerra mondiale ha distrutto moltissime delle architetture di Bauhaus e quello che non potè la guerra potè la speculazione edilizia quindi andare cercando gli edifici di Bauhaus in Germania è difficile quasi come cercare l'architettura degli anni venti nella mosca di oggi ma trovare frammenti di questo sogno è estremamente coinvolgente appassionante Gropius proprio come Melnikoff sogna degli spazi comuni pensate che addirittura nel in Bauhaus studenti e professori dovevano vivere insieme e dovevano condividere completamente la propria esperienza di rapporto con l'arte ma io vado più in là e vi faccio vedere un'altra opera super criticata e super amata qui siamo addirittura nel 1952 e abbiamo cambiato completamente l'attitudine se immagino Melnikoff in mezzo alla neve qui siamo sulle sponde soleggiate dello splendido golfo di Marsiglia siamo nel 1952 quando si inaugura questa grande unité d'abitazione la cosiddetta città radiosa la cité radieuse progettata da Le Corbusier Le Corbusier anche lui oggi è un nome quasi da sussurrare e non pronunciare troppo ad alta voce tanto amato negli anni 60 70 80 del nostro passato ventesimo secolo oggi lo si guarda con un po' di sufficienza e direi anche un po' di paura però questo edificio io per esperienza un po' so che cosa succede ci sono andata con numerose persone e molte mi hanno detto che orrore una conigliera eh sì ma anche Le Corbusier negli anni 50 era comunista e siamo in una Marsiglia che si trova in una situazione molto simile alla mosca che vi ho mostrato poco fa Marsiglia era stata fatta saltare dai nazisti il quartiere della Casba che cosiddetta di Marsiglia era stato minato e fatto saltare la gente che abitava lì si era dovuta spostare e non aveva più casa bisogna costruire in fretta Le Corbusier crea questo famoso edificio che ha i piloti i pilastri di cemento sotto creando qui una un insieme di posti per le automobili oggi ma all'epoca erano tutti posti per la conversazione per la socializzazione Le Corbusier inventa anche un falso piano perché in realtà io qui non mi soffermo ma Le Corbusier aveva pensato di risolvere questa immensa difficoltà che è appunto la convivenza come avevano fatto i monaci cistercensi e certosini nel medioevo allora qual era stato il problema lo vedremo della convivenza nelle grandi case russe spartite che io prendo un salotto borghese lo faccio a pezzi con tanti tramezzi e qui colloco una famiglia qui ne colloco un'altra naturalmente l'inferno rumori voci sciacquoni radio ad alto volume Le Corbusier dice è possibile far vivere le persone insieme mettendo insieme le esigenze del privato coi momenti di vita collettiva e si ispira come vi dicevo alle certose e alle abbazie medievali così le case all'interno sono piccole ma straordinariamente efficienti quindi degli spazi estremamente curati una volta ne parleremo più dettagliatamente all'esterno vengono usati i colori puri alternati con il verde con il bianco un po' come in un dipinto di Mondrian e soprattutto la parte geniale è il tetto che qui non vedete ma sul tetto nella casa di Le Corbusier c'era un asilo una scuola una scuola di musica la proprietà di questa cité radieuse era costituita da una cooperativa di proprietari che a turno si occupava dei bambini di tutto il condominio dello spazio intorno al condominio insomma un sogno anche in questo caso e io non voglio evidentemente prendere posizioni che potrebbero disturbare qualcuno no non vi dico che sia il paradiso in terra tanto che è stato poi oggi venduto a piccoli proprietari e oggi chi è proprietario di uno di questi micro appartamenti di Le Corbusier ha in mano una fortuna perché comunque l'edificio è un edificio di un archistar di tanto tempo fa e quindi ci sono visitatori studenti di architettura da tutte le parti del mondo devo dire però che se si sale sul tetto della città radieuse e si guarda il mare ci si trova tra questa architettura e il mare meraviglioso di Marsiglia quello dove arrivavano i naviganti greci una serie di orrori spaventosi progettati e realizzati negli anni settanta ottanta con appartamenti molto più importanti per chi ci abita ma proliferati ovunque perché se tutti vogliono un appartamento di grandi dimensioni neppure la costa del Mediterraneo è sufficiente per chi la costa